L'articolo del magazzine di Fabrizio Corona sul ritorno di fiamma di Belen Rodriguez e Stefano De Martino E' stata la bomba gossip che ha caratterizzato la scorsa settimana, il bacio, immortalato dal settimanale Chi, di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la conduttrice argentina e il ballerino napoletano che sono stati sposati dal 2013 al 2015 e che sono genitori del piccolo Santiago La notizia in questione è finita anche sulle pagine di The King, Corona Magazine, il web magazine curato da Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico, ed ex fidanzato di Belen Rodriguez, che, nella sua ultima autobiografia, tra l'altro, ha dichiarato di essere ancora innamorato della show per l'argentina Anche il Corona Magazine ha sostanzialmente confermato il ritorno di fiamma tra Belen e De Martino, aggiungendo altri particolari riguardanti soprattutto l'ufficializzazione della storia, non ancora arrivata, da parte dei diretti interessati Stando a quanto pubblicato dall'articolo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero trascorso un fine settimana insieme per recuperare la loro storia d'amore Venerdì, sabato e domenica li hanno trascorsi insieme al piccolo Santiago chiusi tra le nura di casa a recuperare eccoci di una storia che sembrava finita ma che oggi non lo è per niente La riprova una bellissima foto postata da Stefano De Martino sulle stories che lo ritraeva mano per mano abbracciato con gli occhi socchiusi al piccolo Santiago, e chi avrà mai scattato questa foto? La stessa Belen Sempre secondo The King, Corona Magazine, la Rodriguez ha voluto salvare il proprio matrimonio con il ballerino di amici, soprattutto per il bene di suo figlio Nel cuore della bella Argentina ha vinto tra tutti il concetto sostanziale della famiglia che da sempre l'ha distinta da tutte le altre donne Belen ha voluto rendere felice suo figlio Santiago e per questo è tornata con Stefano De Martino Belen Rodriguez e Stefano De Martino, quindi, usciranno allo scoperto solo quando saranno sicuri dei loro sentimenti Siamo sicuri che prima di uscire pubblicamente allo scoperto i due dovranno esserne sicuri oltre ogni ragionevole dubbio, prima che i ritorni di amore non diventino dei semplici fuochi che non hanno niente a che vedere con l'amore Iscriviti per non perdere le novità! Grazie per il like!